Una battuta onorevole. Quarto posto come gradimento di governatore d'Italia. Era degli ultimi giorni, è uscito con un post sui social dove poi tra l'altro sono intervenuti vari consiglieri regionali, la nostra deputazione parlamentare per evidenziare che comunque questa regione in due anni ha lavorato, sta lavorando e sta dando i suoi frutti e questa non è una dimostrazione a bando di altre chiacchiere. Noi stiamo lavorando, stiamo lavorando sodo perché le condizioni della Calabria, quelle che abbiamo trovato, le condizioni della nostra terra sono difficili perché sono stati accumulati nel corso di un lungo periodo degli anni che abbiamo alle spalle, ritardi, mancata utilizzazione delle risorse, servizi che sono stati lasciati al degrado, servizi importanti come quello della sanità che registrano difficoltà enormi, eccetera. Questo quadro di difficoltà a partire dalle condizioni economiche e sociali è un quadro di partenza difficile del quale noi eravamo e stiamo consapevoli, però abbiamo innestato una marcia per aiutare la Calabria ad uscire da queste secche. Lo stiamo facendo tassello su tassello con un lavoro silenzioso, con atti che concretamente stanno mettendo sul binario giusto la nostra regione. Abbiamo definito la programmazione delle risorse comunitarie, abbiamo sottoscritto il patto per la Calabria con Matteo Renzi che destinano risorse importanti alla nostra regione. Adesso siamo nella fase operativa, i primi bandi sono stati pubblicati, si entra nel vivo della utilizzazione di queste risorse per alimentare i motori della crescita, dello sviluppo e per dare opportunità di lavoro ai nostri giovani, alle nostre ragazze in primo luogo, per riorganizzare i grandi servizi. Abbiamo definito il piano dei trasporti, abbiamo ed è in dirittura d'arrivo definito il piano per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, finalmente la Calabria ha un quadro territoriale di riferimento per quanto riguarda la pianificazione territoriale, abbiamo approvato una nuova legge urbanistica, abbiamo messo tasselle importanti. Tra qualche settimana presenteremo il report del lavoro di questi primi due anni, non bisogna dimenticare che i due anni scadono a dicembre, quando io mi sono insediato era il 10 dicembre del 2014 e porteremo come giusto ai calabresi il bilancio, i risultati di questi primi due anni. Abbiamo recuperato credibilità nel rapporto con il Paese, con il Governo, con la Commissione europea e abbiamo fatto un lavoro importante, le difficoltà ci sono e sono oggettive, non è che nell'arco di due anni si risolvano problemi che sono stati accumulati nel corso di decenni, di un lungo periodo, nessuno è remida, detto tantomeno Oliverio che quello che faceva diventare oro. Noi siamo consapevoli delle difficoltà e proprio perché siamo consapevoli abbiamo innestato la marcia che più che agitare propagandisticamente il lavoro che facciamo, lavoriamo per incidere concretamente nella struttura economico-sociale della Regione e dell'assetto amministrativo ed istituzionale della Regione. I sondaggi naturalmente non mi montano la testa né quando sono negativi mi deprimono. Uno che ha la responsabilità di governare deve sapere che ci sono tempi, ci sono... Naturalmente noi stiamo cercando di operare, di lavorare nel massimo di rapporto con i territori. Non manca un giorno che io non sono in un territorio, ieri sono stato nell'area grecanica, prima ancora sono stato a San Luca alla inaugurazione dell'anno scolastico, non a caso abbiamo scelto San Luca. Poi sono stato a Mileto perché il 21 ci sarà questa manifestazione alla quale invito i calabresi, le forze sane di questa Regione ad aderire e a partecipare contro la violenza alle donne. Ci sarà una Regione bellissima ieri sera che è durata fino a tarda sera con la rete associativa, con le organizzazioni sindacali. Allora, questo rapporto con la Calabria, con la profondità dei bisogni della Calabria, noi lo manteniamo in modo costante, prestiamo grande attenzione a ciò, non perché dobbiamo, come dire, abbiamo l'assillo del sondaggio, lo manteniamo perché è fondamentale per costruire un percorso di cambiamento nella vita di questa terra. Grazie.